salve siamo in diretta qui dalla via spiga dove si sta consumando il rito tradizionale del pane e vin e non solo qui ci sono dei buonissimi panini siamo in diretta il pubblico andiamo a vedere cosa c'è in giro eccoci qua guardate che meraviglia ecco qua ci sono le griglie roveti con le cose migliori della nostra terra guardate che roba ragazzi qua fumano anche qua c'è il fuoco il bracere guardate che roba qua guardate che roba amici facebook meravigliatevi queste sono le nostre tradizioni più antiche il pane e vin il pane e vin eccolo lì pronto per essere acceso tra un po sarà acceso saluto quelli che si sono collegati toni paola la sonia ciao sonia ciao martina guardate che roba qua è tutto pronto la gente è tutta pronta il brulè le braciole i panini tutto quanto guardate che roba la gente ha corso per vedere il pane e qua si va alla grande un saluto agli amici facebook guardate che roba bravi 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 io accendono il fuoco guardate ecco l'accensione è acceso il pane e vin 2017 dove andranno le fulibre quest'anno lo scopriremo bello la notte fredda forse la notte più fredda hanno detto questa abbiamo acceso via dei sali il pane riscaldati dal brulè l'accensione è completata a un primo sembra che le fulibre vanno verso sera viene la cadiera sarà un anno buono ragazzi guardate la luna lì che ci dà con la sua roba ci dà la sera e la sera è l'ovest e le fulibre che vanno verso ovest quindi verso sera viene la cadiera le sera le sera le va a sera e viene la cadiera guardate che meraviglia il nostro panerino saluto lisa mara bernardetta toni paola martina sono guardate che meraviglia grazie mara per aver condiviso il video qua brucia tutto verso sera che si fa adesso sera qua ragazzi spettacolo guardalo qua ciao ciao che va sera? si e beh ciao 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 Lidio De Mastiani, Tony Brincolino, anche una sorta di bischiacci, si è venita lì, è qua in diretta su Facebook. Tutto bene. Bene, allora da via Spiga, Spiga, Spiga è come la spiga del grano che ci lega il pane quotidiano. Vi saluto e buon pannevino. Quest'anno sarà un anno migliore. Guardate le polibre che vanno a sera ragazzi. Giusto e meglio e così non potevamo chiedere. Sarà un anno buono per tutti. Ciao, ciao da via Spiga, ciao a tutti.